Il cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla 1 dove in direzione Bologna si segnalano 4 km di coda per un incidente ora risolto al km 334 tra Arezzo e Valdarno. Sempre verso Bologna per il traffico intenso, rallentamenti tra Valdarno e Firenze Sud, code a tratti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze Sud e Incisa Reggello. In A11 code per traffico intenso in uscita a Chiesino Zanese provenendo da Pisa. Spostandoci sulla FIPILI in direzione Firenze e possibili disagi per un incidente avvenuto tra l'allacciamento con la 12 e Interporto Toscano Est. Ed è tutto, buon viaggio!